Carissimi amiche e carissimi amici, buona mattinata dal vostro caro Jokerilone, il vostro caro amico che oggi vi porta Tron & Liberty. Tron & Liberty è un videogioco come potete vedere sviluppato anche da Games di Amazon, sono molto curioso di provarlo perché me ne hanno parlato molto molto bene, un gioco di ruolo che unisce i concetti alla Diablo con concetti alla World of Warcraft. Vediamolo insieme, purtroppo il gioco non è disponibile in italiano, nemmeno dal punto di vista testuale, questo ovviamente denota sempre una minore considerazione del mondo videoludico nei confronti del mercato italiano, forse per una troppa presenza di pirateria, troppa per un poco investimento, poco interesse da parte dei giocatori italiani di questa tipologia di gioco. Andiamolo a vedere però insieme perché a me piace, a me sono sempre piaciuto, sapete che il gioco dell'Ude è un gioco, videogiocatore di vecchia data. Andiamo a vedere, controller mode attivato, andiamo a vedere, non capisco perché devo premere, perché te ne hai premuto 48 volte per creare qualcosa graficamente molto molto bello, devo dire, vediamo, vediamo un pochettino che cosa ci permette. Early Access, Belandir, qui Wright, Zenith. Andiamo a fare, ecco qua, perfetto, quindi posso scegliere quelli che sono i miei server, vedete, con i vari, con i vari, praticamente i vari torrent, addirittura questo si chiama. Va bene, andiamo a scegliere questo qua, Early Access, perfetto, in accesso anticipato, questo qua non è in accesso anticipato, quindi abbiamo Basilisco, Basilisco, ma cambiano, cambiano praticamente i nomi, vabbè, andiamo a pigliare questo qua in accesso anticipato e vediamo com'è, andiamo a vedere, andiamo a sentire le grandi storielle che ci narreranno praticamente tutto quello che c'è. Ci troviamo in questo abisso marino, statue che ricordano molto quelle dell'antichità, quelle in stile Elder Ring, pensate un pochettino. Qui sarà successo veramente di tutto e di più, ovviamente hanno cercato di imprimere una lore, una storia, vedete, addirittura vecchie civiltà che ovviamente si sono andate a perdere e quasi sempre così, care amici e care amiche, tutto finisce, tutto inizia per poi finire ed è così, pensate al Tempio di Serapide che si trova a Pozzuoli, praticamente il vecchio Macello, il vecchio Tempio di Serapide, il vecchio Macellum, per esempio, che si trova a Pompei, c'è zona ovviamente che hanno avuto un grande splendore e poi dopo sono state piano piano abbandonate. Siamo in tempi molto particolari, in tempi di guerra, è vero sì, l'essere umano per estendere il suo dominio sul territorio, per mantenere le sue ricchezze e per non solo mantenere le sue ricchezze, ma addirittura, ma addirittura espandere il proprio dominio, espandere le proprie ricchezze, ha fatto le guerre, le guerre che si fanno sempre per un casus belli, pensate un pochettino, il casus belli è un motivo per la guerra, motivi espansionistici, ratti, cioè i rapimenti delle donne, quando non scarseggiavano le donne per fare bambini, oppure, per esempio, altre cose, Moe, è arrivato Moe. Caro Moe, oggi ti faccio vedere Tron e Liberty, penso un pochettino, un gioco molto molto bello, hai capito bene? Molto molto bello, free to play, quindi puoi scaricarlo gratuitamente. Il gioco pesa circa 63 giga, quindi non pesa poco, però è free to play, l'unica cosa negativa che è totalmente in inglese, in realtà ci sono anche altre lingue, francese, tedesco, eccetera, ma non c'è l'italiano, addirittura spagnolo e portoghese, non hanno inserito l'italiano. È un gioco di ruolo in stile Diablo, in stile Diablo, in stile World of Warcraft, questa doppia unione, come puoi vedere, è molto bella questa introduzione, ma tendenzialmente inutile, soprattutto perché, perché se io devo giocare a un gioco e me lo devi far giocare quanto prima, ma ovviamente è inutile riempirmi di cose inutili. Non la voglio la femmina, ecco qua, volevo il maschio, perché mi fai pigliare la donna? Non la voglio, la vuoi tornare indietro, perché mi fai giocare con sta femmina? Ecco qua, Tron e Liberty, Exit, Chart, Crescere, Tutto e Selection, no, veramente volevo cambiare il sesso, ecco qua, ma perché mi fai mettere la femmina? Scusa, non ho capito, questo è molto brutto, molto brutto ragazzi, molto brutto, volevo, 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 volevo pigliare il maschio, scusami, non mi hai dato neanche il tempo, non mi hai dato nemmeno, no vabbè, pigliamoci questa femmina, noi non la volevo, nemmeno io la volevo la femmina, volevo pigliare il maschio, ma chi è? Mi hai portato, mi hai portato, mi hai portato, exit game? No, no, che exit game? Non mi voglio uscire dal gioco, ma perché questo è pazzo, per farti capire, vabbè, ok, andiamo con sta femmina, praticamente, ecco qua, randomize, apparenza, ecco qua la femmina, no, che cos'è? La scimmia, ecco qua la scimmia, la femmina rossa, praticamente, giocherò con la femmina verde, con i capelli, Anna dai capelli verdi, che cos'è? Bingo Bongo lì sopra, andiamo a vedere, andiamo, pigliamo, ecco qua, andiamo praticamente da questa parte qua, ok, perfetto, andiamo avanti, andiamo avanti con questo, incredibile, non mi ricordo manco qual era, il grande, il grandissimo, start the game, iniziamo a giocare con questo personaggio, con questo personaggio, volevo il maschio, ecco qua, che tiene il neo sopra il naso, addirittura l'hanno differenziata, gli hanno messo il neo sopra il naso, Luca, lo io sono sveglio, questo era 6.34, e lo so, altrimenti non potevi scrivere, saresti stato un robot, un robot informatico, un bot, gioco graficamente molto bello, devo dire la verità, pesantino, 63 giga, la faccia del salsiccio, per farvi capire, chissà, con i vari aggiornamenti, come diventerà, l'importante è ovviamente che sia divertente, c'è tutta una storia, e storiella prende una spada che pesa più di lei ed è pronta praticamente a combattere, quindi per attaccare teniamo praticamente, ecco qua, che devo fare, praticamente che devo fare qui sopra, devo andare, devo andare a cercare di attaccare, ma come faccio ad attaccare? Sì, ok, perfetto, perfetto, vai a fare tutte queste, RT, RT per fare che cosa, scusa, RT, RT, Y, Y, Beta, B, e non attaccano, e non è che fai, te la metti dietro, te la metti dietro questa spada, scusa, come si fa ad attaccare? Select, allora, R per vedere la visuale, perfetto, vedi un pochettino, ok, usa RT, rotate, ok, bellissimo, com'è bello, tra poco vado a scuola, com'è Luca, tu vai al lavoro, adesso più tardi, più tardi al lavoro, interact, quindi che devo fare qui praticamente, astral vision, uso skill, astral vision, perfetto, ring menu, perfetto, quindi non so, eh sì, ok, perfetto, e che cosa vai a fare qui sopra, non ho capito, scusa, jump per saltare, interact per interagire, interagisco su che cosa, select the target, e quindi ho selezionato il target, e quindi che devo fare? Ecco, come si fa ad attaccare questa cosa, non ho capito, scusami, non ho capito, a per attaccare RB, ah, ecco qua, quindi vado ad attaccare, tenendo spero premuto RB, perfetto, ragazzi, vedete, e quindi gli giro intorno, e abbiamo completato il boss, Luca, le persone si stanno svegliando la mattina, e questo è brutto, perché la mattina loro in bocca, lo sai questa cosa qua, quindi per muoverci dobbiamo fare così, vedi un pochettino, dobbiamo muoverci praticamente da questa parte qua, perfetto, e dobbiamo andare via, andiamo a chiudere praticamente questo grande suggerimento, vedete un pochettino, quindi abbiamo la possibilità, vedete, è molto bello, qui si salta, qui praticamente si va a cancellare l'attacco, qui sopra si va a selezionare il cosa fare con il target, il control menu che sarebbe, che non so che cosa serva, RB per più usare le varie skill, RB, scusa, RB per attaccare, RT per attaccare, casomai, no, RT, RB, ah, quindi RB per attaccare una volta che abbiamo le cose, party maker, use skill, RT, più i tastarielli, perfetto, LT astral vision, praticamente, più X, astral vision, quale è astral vision? LT ring menu, no, questa cosa non lo fa, defense skill, per difenderci, swap weapon, vedete un pochettino, use item, change item, praticamente, perfetto, move, e dash, morph, tenendo premuto, praticamente, perfetto, andiamo a vedere, dice Moe, dice Luca, un compagno mi bullizza, mi ha detto il bullo, che dici tutte le cose alla prof, e poi ha detto il bullo, e ti faccio sospendere, beh, in realtà lo fai sospendere tu, lo fai sospendere tu, se ovviamente si dovesse permettere mai di fare qualcosa contro di te, carissimo Moe, ma non ti preoccupare su questo, tu, se qualcuno ti molesta, se qualcuno ti molesta, tu vai sempre, vai sempre a segnalare, segnalare alla professoressa Luca, e dopo porterà Brawl Star, certo, porterò anche Brawl Star, dopo averti portato Tron e Liberty, gioca, installalo pure tu questo gioco, Moe, perché sembra molto, molto bello, come puoi vedere, e oltretutto non si paga, vedi, c'è un cavaliere qui sopra, che devo fare? Mystery Void, se vedi un pochettino, LB, Left Button, tu usare la skill difensiva, perfetto, è stato stordito il ragazzo, quindi andiamo a stordire, vedete, è stato stordito il ragazzo, ma in realtà, in realtà, non riesco, non riesco a capire come andare, ovviamente, Select Target, vediamo un pochettino, perfetto, abbiamo selezionato il target, come potete vedere, ci andiamo ovviamente a girare intorno, vedete, a questo mitico amico Calippone, il Calippone, vedi il Calippone, che cosa va a fare? Oh, mi ha stordito, il mitico Bright Armor, ricorda molto i nemici del Signore degli Anelli, come potete vedere, è bello, è molto bello questo gioco, ragazzi, mi sta piacendo, installalo anche tu, perché non è malvagio, non è malvagio, andiamo a vedere, vedete un pochettino cosa possiamo fare, andiamo a interagire, andiamo a interagire con questo personaggio, un personaggio molto cattivo, vedete, un pochettino, ci andiamo a girare praticamente intorno, e chissà chi troveremo, forse è molto bello, ragazzi, graficamente potente, dove si scarica? sul telefono si scarica, solo sul computer si scarica, Tron & Liberty si chiama, Tron & Liberty, è piacevole questo gioco, devo dire la verità, è molto molto bello, graficamente imponente, please switch to range of weapon, quindi andiamo a, vedete ragazzi, andiamo a switchare con range of weapon, e andiamo a vedere che cosa possiamo fare, andiamo a vedere, andiamo a vedere se possiamo, vedete un pochettino, possiamo quindi cambiare, praticamente cambiare la nostra arma, e andarlo ovviamente a distruggere, questo ragazzo arciere, vedete un brat, un great arciere, un signore, che ovviamente è passato al lato oscuro della persona, Luca, perché sono 30 persone, ci guardano e non scrivono la chat, perché stanno, stanno facendo colazione, fanno colazione, fanno colazione, non vogliono essere scocciate, hanno le mani sporche di cioccolata, di cioccolata, e ovviamente di marmellate, pensa un pochettino, di dolciumi, quindi guardano la live, ma non guardano, mamma mia, guarda questo quanto è grande, questo è gigante, praticamente, qui non ce la faccio, qui sono un pochettino tanti, quindi è meglio che me ne scappo, il mondo dei morti, il mondo dei morti, e chi deve, ma è più dash, praticamente, andiamo a correre, mi trasformo, praticamente, in lupacchiotto, pensa un pochettino, in un lupo, mi trasformo in un lupo, e me ne vado, praticamente, qui sotto, caro Moe, perché mi stanno attaccando, praticamente, vedete un pochettino, dobbiamo stare attenti, vogliono, vogliono distruggere tutto, praticamente, ecco qua, andiamo a trasformarci, praticamente, qui sopra, andiamo a switchare, a switchare l'arma, come si fa a switchare l'arma, ragazzi, non lo so, ecco qua, finalmente l'ho switchata, l'ho switchata, vedi un pochettino, e la tecnica, è sempre quella, quella di girarci, intorno ai problemi, più che altro, e andare a distruggere, il grande mago, vedi caro Moe, stanno facendo colazione, i nostri grandi amici, i nostri grandi amici, guarda, guarda, questo, si è trasformato in calanzia, in calanzia, vedi un pochettino, molto, molto fluido, devo dire la verità, ma purtroppo, ci ha fatto una maledizione, caro Moe, intanto che i nostri amici, fanno colazione, con le marmellate, i cioccolati, vedi un pochettino, cosa sta succedendo, sta esplodendo, veramente, di tutto e di più, la mano alzata, la calanzia, vedi che ti guarda, vedete che cosa dice, e dice, mamma mia, ma le panza, che ma le panza a calanzia, vedi un pochettino, è arrivato il grande mago, il mago di questo, salsiccio, che butta la mitica calanzia a terra, noi abbiamo la treccina, Luca, ti piace di più, cane o gatti, ma diciamo che mi piacciono entrambi, il gatto è un animale molto diverso dal cane, è un animale molto indipendente, raramente lo vai a domesticare, è un animale molto furbo, penso un pochettino, si avvicina, mangio e se ne scappa, mentre invece il cane è più sottomesso, è più sottomesso al gatto, Luca, è vero che i gatti hanno sette vite, no, i gatti hanno solo una vita, ma non ha grande resistenza, penso un pochettino, che se butti un gatto, ma non lo fare, da quinto, sesto piano, quindi si potrebbe dire tre metri di altezza, da circa 150 metri, il gatto quasi sicuramente non muore, penso un pochettino, ovviamente questa cosa non la fare, se butti un gatto invece dal primo, secondo piano, in realtà muore, perché l'impatto è diverso, in base ovviamente alla sua, come si dice, solidità corporale, la sua densità corporale, scusami un attimo, quindi che dirti, che dirti muore, sicuramente si dice che il gatto ha sette vite, perché ha una grande resistenza a morire, mentre il cane, l'essere umano, e l'essere umano sono ovviamente animali, perché anche l'essere umano è un animale, che tende praticamente a morire più facilmente, questo è tutto, quindi il detto sette vite come gatti, si dice perché il gatto è molto, molto, molto praticamente, qui mettiamo giocherellone, ovviamente giocherellone, pensate un pochettino, andiamo a mettere giocherellone, e questo sarà il mio nickname, se volete ovviamente giocare con me, pensate un pochettino a giocherellone, è accettato, è accettato il giocherellone, perché non lo vuoi accettare il giocherellone, scusami, è accetta il giocherellone, accetta il giocherellone, che vuoi, 79, ecco qua, giocherellone, ah giocherellone 79, giocherellone già c'è, ok perfetto, iniziamo quindi a giocare, giocherellone 79, meglio così, andiamo a vedere, quindi andiamo, c'è anche una parte di dialogo, di cui in realtà non ci interessa niente, perché a noi interessa solamente combattere, ed eccolo qua, il ragazzo baffettino, il pizzettino ragazzi, il pizzettino, tantissimi dialoghi, di cui non ci interessa veramente nulla, vogliamo solamente giocare, vogliamo solamente combattere, vediamo un pochettino che cosa, in questo Tron and Liberty, che cosa ci sarà, vedete, parliamo con questo, in realtà non ci interessa niente, perché noi vogliamo solamente fare punti esperienza, vedere fin dove possiamo arrivare, Luca, le persone stanno tagliando l'unghia, per i gatti, dopo il gatto non può più graffiare, ma in realtà, il gatto non può più graffiare, ma le unghie e i gatti, crescono sempre molto velocemente, caro Moe, infatti quando giochi con un gatto, se giochi con un gatto, ho visto che anche io molte volte gioco con il gatto, quando giochi con il gatto, devi stare molto attento, perché devi stare attento, caro Moe, e pigliela sta mappa, ecco qua, devi stare attento, perché ti può praticamente graffiare, Luca, perché i gatti odiano l'acqua, gli dà fastidio, gli dà fastidio al gattino, praticamente, deve dire, diciamo, questa acquetta, vedi, questa, è tutta la mappa che possiamo esplorare, molto, molto simile al mitico, al mitico Elder Ring, vedete, ci sono anche i quadri d'autore, vedete un pochettino questi quadri, lui dipinge nel tempo libero questi quadri, quindi ricorda molto, dobbiamo dire la verità, Elder Ring, mi posso trasformare anche il lupo, ed è questo, ovviamente, la parte simpatica del gioco, per chi voleva il gioco, apriamo sta porta in stile Elder Ring, quindi un po' copiate, la balena, guarda che balena gigante, la balena con gli artigli, ovviamente molto copiato da Elder Ring, la statua della regina, l'albero della conoscenza, l'animale, questa visione, questa visione ovviamente del mondo, Luca, io mi guardo d'ora, è un bellissimo lupo, ti piace il lupo, guarda qua, ti piace questa ambientazione, guarda, guarda che bella, lì sopra c'è una statua della regina, con questi alberi di pesco, addirittura, guarda qui sotto che c'è, tutto un nostro mondo, molto bello ragazzi, molto bello graficamente, non è nemmeno pesante, devo dire la verità, certo, se andate a zoomare, vedete che in realtà il personaggio è un pochettino, diciamo, ha una scalettatura un po' particolare, anche per via, anche per via forse sicuramente, dei pochi poligoni utilizzati, è sempre un morgue, praticamente, un morf, un morgue, o magari chi si chiama, ecco, multiplayer, o multiplayer massivo, online gamer, morgue, e quindi, è molto, ovviamente, molto, molto, c'è anche il virus content, ok, content, serve tutte le cose che ci stanno, e non ci interessa nemmeno, e va bene, e quindi, e quindi adesso dobbiamo andare in questo villaggetto, comunque, è fatto bene, è fatto bene, che dobbiamo fare, indicate target, turn it to talk, ok, perfetto, però io voglio combattere, hai capito, hai capito amico, ecco qua, voglio combattere, quindi, farmi i dialoghi da gioco di ruolo, mi interessa poco e niente, perché altrimenti, il gioco di ruolo, io che sono giocatore vecchio stile, me lo gioco, offline, non Luca, non voglio arrivare al 2025, perché non vuoi arrivare al 2025, hai paura che il tempo passi, no, è purtroppo inevitabile che il tempo passi, penso un pochettino, il tempo, il tempo continuerà a passare, ci sono punti nell'universo, non so se lo sai, ci sono punti nell'universo, dove il tempo passa più lentamente, ci sono altri punti nell'universo, in cui il tempo passa più velocemente, lo sai questa cosa qua, è incredibile, e quindi, praticamente, se tu andassi vicino a quei punti, nell'universo, dove il tempo passa più lentamente, quando torneresti sulla Terra, saresti forse ancora giovane, mentre invece le persone qui sarebbero morte, o addirittura sarebbero invecchiate, e quindi, e quindi puoi immaginare, le grandi magie, le grandi magie dell'universo, penso un pochettino, questo che salta, a tutta forza, i vari nani, qui sopra, dove possiamo ovviamente parlare, in questo villaggio, stile ma anche Monster Ranger, come si chiama, Monster Ranger, come si chiama, Monster Ranger, no Monster Ranger, Monster, quello là della Capcom, adesso non mi ricordo come si chiama, e quindi, e quindi ovviamente, interagisce, interagisce a mamma, non interagisce, vediamo se riesce ad aprire, è bravo, ok, perfetto, qui mi posso addirittura allenare, molto molto, diciamo soft, questo gioco, peccato, che ovviamente diventi, vedete qui, possiamo ovviamente parlare, con questo personaggio, possiamo addirittura fare, determinate cose, apriamo il Ballooner, il Resistant Weapon Chest, a quel level, a che sono i Chocobo, qui sopra ragazzi, guardate un pochettino, i pappagalloni, pensate un pochettino, vedete, Great Sword, abbiamo, ah, Weapon Introduction, quindi Weapon Introduction, Dodger, Long Bow, praticamente Cross Bow, le Staff, praticamente, e Weapon Introduction Wand, per avere ovviamente, la cosa praticamente, andiamo a vedere, a parlare con lui, il Colonnello, lo vedi un pochettino, ne prese sta morendo, felici i denti, allora, ognuno di noi, ogni giorno che passa, riduce, riduce, che cosa? Riduce il suo tempo, praticamente, riduce, praticamente, il suo tempo, il suo tempo di vita, hai capito bene, carissimo, andiamo a equipaggiare questa cosa, ma in realtà, mi piaceva sto Spadone, più che altro, devo dire, lo Spadone non era male, perché devo equipaggiare, qualche altra cosa, o per il mio equipaggiato, 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 e questo, e adesso, le prase dammi, le prase dammi, devo distruggerle, praticamente, ecco qua, equipaggiato, equipaggiato, che devo fare, praticamente, che cosa? non posso fare, non posso fare niente praticamente non mi fai fare niente e qui facciamo qualche altra cosa perfetto andiamo a vedere se possiamo vedete un pochettino attaccare perfetto vado ad attaccare praticamente qui sopra mica li devo distruggere tutti quanti ok perfetto andiamo a vedere da quest'altra parte qua cosa possiamo fare e quindi che devo fare e quindi che devo fare tutto sto casino praticamente per distrugere mezz'ora per distruggere sto coso vabbè ragazzi pensavo si potesse ovviamente fare qualcosa di più veloce voglio equipaggiare lo spadone e vediamo un pochettino se posso ma che è il pugno il pugno di mamma avevo detto equipaggia lo spadone ok perfetto andiamo a vedere con lo spadone se riesco a distruggere prima sto coso vabbè mezz'ora per fare nulla muoio Luca hai capito muoio carissimo muoio quindi che ti volevo dire praticamente che noi tutti noi tutti noi tutti ogni giorno che passa moriamo per questo dobbiamo avere molto ben specificati nel nostro nel nostro nel nostro cervello dobbiamo capire che cosa fare durante la nostra vita come vogliamo impiegare il nostro tempo il nostro tempo ovviamente residui di the move closer to Lottie e dove Lottie? ecco qua ecco Lottie mi trasformo in lupo guardate un pochettino in lupo la piccola Lottie praticamente ritrasforma di qui sopra che dobbiamo fare quindi adesso dobbiamo parlare praticamente con qualche cosa live forse around while following Lottie ok perfetto Lottie ecco qua i ragazzi il gigante guarda il gigante il gigante peloso il gigante barboso vedi un pochettino apre la ruota il peloso questo è il peloso vedi un po' è il peloso Luca ti ha raccolto una storia per le due gemelle le due gemelle sì la storia delle gemelline penso un pochettino Lottie si è trasformata in lupo e anche io mi trasformo in lupo molto bella questa ambientazione però possiamo stare trasformati in lupo solamente per poco tempo vedi il lupo non ce la fa è chiatto chiatto praticamente il lupo chiatto chiatto non ce la fa a correre Luca una gemella è nata tutta blu praticamente una gemella è nata tutta blu stava per morire con l'altra gemella stava tutta bene l'hanno messo insieme quella blu è quella che sta bene quella blu ha smesso di diventare blu e meno male praticamente meno male che praticamente questa ragazza questa ragazza vedi un pochettino che devo fare mi devo attaccare praticamente a sto coso che devo fare praticamente che devo fare da quest'altra parte qua tu lo capisci climb over climb over e climb over ok perfetto ha climbato ha climbato praticamente ha climbato andiamo a trasformarci in lupo e vediamo qui che cosa possiamo fare i fantasmi i fantasmi di mamma addirittura un gioco particolare un gioco particolare questo trono liberty che sicuramente ci sta facendo capire determinate cose ed eccoci qua ragazzi trasformati un'altra volta in lupo per dirti andiamo a cercare ovviamente di attaccare questo mostro vedete ragazzi in trono liberty il mostro si distrugge così guardate qui ragazzi dove stiamo arrivando siamo arrivati una civiltà ormai del passato trasformati in lupo con lotti vedete si stanno aggiungendo dei nuovissimi amici arrivano delle palle di fuoco addirittura guarda qui sopra guarda qui sopra trasformati qui sopra addirittura dobbiamo stare attento vai ce la fai col target è un po' un poco diciamo macchinoso andare a colpire direttamente i mostri ma noi utilizziamo la tecnica del girarrosto praticamente quindi ci giriamo piano piano da dietro questo è un trend è un albero che si trasforma in mostro e continuiamo continuiamo carissimo carissimo vai vai che ce la fai ce la fai ad attaccare che ha fatto mi ha stordito vedete un pochettino il grande mostro mi ha stordito quindi continueremo a girare praticamente intorno a questo essere molto fluida la grafica anche perché in realtà dovrei stare a giocare online praticamente dovrei stare a giocare all'una andiamoci da quest'altra parte qua e ci trasformiamo in un altro gigante luca perché le gemelle una ciambella è nata blu la gemella la ciambella è nata blu forse perché aveva un pigmento particolare nel suo corpo questo pigmento particolare sarà stato dato senza alcuna ombra di dubbio forse da un eccesso mi sembra di mercurio in genere il mercurio il mercurio oppure no c'è anche un altro materiale praticamente che rende la pelle blu non mi ricordo praticamente l'argento l'argento lo sai l'argento che è un materiale che diciamo l'essere umano riesce anche che ha ben un pochettino a sopportare rende la pelle rende il pigmento della pelle blu non so se lo sai questa cosa qua andiamo a vedere ragazzi dove possiamo andare con l'otti tutti in campo con l'otti luca perché le persone insultano dio insultano dio per per insultano dio per offendere la sensibilità di chi crede in dio nel senso che visto che per molte persone per molte persone l'esistenza della divinità creatrice unica in una religione monoteista e praticamente una stupidata tendono a insultare la divinità creatrice pensa un pochettino infatti non tutte le persone credono nella creazione di una divinità hai capito bene che il mondo ovviamente sia stato creato per una divinità praticamente che devo fare praticamente questo qua someone hurt someone qualcuno che devo fare e quindi lo sto praticamente ripristinando come se ovviamente in stile fortnite in stile fortnite seguiamo questo spiritello e quindi visto che molte persone non credono in dio spesso alcune di queste persone che vogliono urtare la sensibilità pensa un pochettino carissimo moe vogliono urtare la sensibilità delle persone che credono in uno più divinità li vanno a offendere Luca che fine ha fatto Gesù Gesù era un profeta e voleva rivoluzionare la religione ebraica voleva rivoluzionare la religione ebraica Gesù è stato ucciso tendenzialmente dagli stessi ebrei che praticamente lo consegnarono ai romani visto che gli romani avevano un culto politeista e gli ebrei che erano molto potenti nell'ambito ovviamente dei territori anche occupati dai romani perché amministravano il denaro o parte del denaro che cosa fece praticamente Gesù visto che la religione ebraica quella contenuta nell'antico testamento è molto molto cruda e molto anche rude i romani volvero praticamente gli ebrei dissero noi non riconosciamo questo profeta come un nostro praticamente simile e quindi praticamente lo consegnarono ai romani e i romani lo misero in croce quando ovviamente Gesù fu praticamente condannato fu il popolo a scegliere che cosa successe praticamente il popolo cioè i romani dissero volete che uccidiamo Gesù Barabba o Gesù il Nazareno e Gesù Barabba era un ladro mentre Gesù il Nazareno era un profeta diceva che Dio ti amava ti voleva bene e quindi come si dice scherza con i fanti ma non scherzare con i santi quindi scherza con le persone ma non scherzare utilizzando mettendo tirando offendendo le credenze e quindi che cosa accadde che cosa successe praticamente che il il coso praticamente Gesù fu il popolo scelse di crocifiggere Gesù insieme anche ad altri due ladroni e di salvare Gesù Barabba Gesù Barabba che si chiamava pure Gesù e che era un ladrone Luca perché le persone stanno diventando Hitler ma in realtà ci sono dei pensieri totalitaristi volti ad abbattere volti a eliminare praticamente le minoranze e quindi è una forma di affermazione del appunto del totalitarismo del totalitarismo cioè o si pensa come dico io oppure distruggo tutti quelli che non la pensano come me e questo ovviamente è una forma di dittatura ma non esiste solo non è esistito solo Hitler come dittatore ma ce ne sono tanti altri purtroppo se non si vivono determinate situazioni nemmeno io le ho vissute ma le ho studiate e che ovviamente non è la stessa cosa non si possono capire determinati ovviamente comportamenti i poveri Gesù non dovevano farlo e ho capito però purtroppo immagina immagina di vivere e di vivere in un contesto in un contesto del genere tu credi nella religione politeista quindi dove ci sono più divinità e arriva uno e dice no Dio è unico perfetto quindi già mi stai offendendo allora vuoi professare questo culto io ti vieto di professare questo culto allora oltretutto mi vado a scontrare contro un gruppo diciamo contro un popolo che crede già in un'unica divinità e dico voi non dovete credere in quello che dice questo questo piccolo gruppo che sarebbero gli ebrei ma dovete credere in quello che dico io cioè che il Dio in realtà è buono che Dio non vi punisce che Dio è amore e quindi non solo mi vado a scontrare contro praticamente i romani ma mi vado a scontrare anche contro gli ebrei purtroppo molte volte si dice tanti nemici tanto onore ed in parte è vero non è sempre vero però purtroppo se io da solo con un piccolo gruppo di persone cerco di rivoluzionare addirittura due governi due credenze con la politeista e con la monoteista ebraica sicuramente mi troverò poi dopo quasi sicuramente a passare dei problemi Luca cosa sta facendo mia moglie sta dormendo perché fra poco si alzerà anche lei e dovremo andare tutti e due a lavorare penso un pochettino carissimo muoio quindi sarà una giornata molto particolare per tutti e due intanto parliamo col fantasmino qui sopra Luca mi mangio una cosa e fai bene a mangiare perché la colazione è il pasto più importante della giornata vedi a bambulele mamma a bambulele mamma che è belt hedge morph allora un gioco che avrei preferito sicuramente ragazzi devo dire la verità in italiano perché non è che non lo capisco però c'è un po' troppo da leggere da studiare molto molto particolare molto molto bellino vedete ragazzi possiamo quindi mi posso trasformare in fantasmino vedete un pochettino e posso volare quindi attraverso praticamente gli morph le praticamente le 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 trasformazioni posso praticamente e togli questo cosa posso praticamente trasformarmi vedete c'è anche un panzarotto Luca Gesù e Dio fosse vivi ancora tutto il casino ci sarebbe qua il fumo e la droga non credo questa cosa qua perché Gesù è un personaggio realmente esistito ma Gesù era un profeta quindi il Gesù miticizzato dai cristiani e dai cattolici in realtà non è mai esistito ma è esistito Gesù il profeta che oltretutto oltretutto di certo non diceva quello che diceva oggi la chiesa di Roma cioè per esempio Gesù non ha mai detto che doveva esistere il papa un capo della chiesa pensate un pochettino quindi noi non ci giriamo intorno e allo stesso tempo allo stesso tempo mai che i sacerdoti si sarebbero dovuti arricchire pensa un pochettino che i sacerdoti mantengono la maggior parte del potere diciamo uno dei maggiori poteri economici del mondo nonché anche a livello immobiliare quindi non credo che Gesù avrebbe voluto la chiesa cattolica come la conosciamo noi Luca Luca quanto toglieranno la droga e il fumo allora in realtà tutti i proibizionismi portano a un consumo maggiore però ovviamente fin quando si tratta di fumo di sigarette il fumo di sigarette di tabacco rilassa e allo stesso tempo però distrugge il corpo umano perfetto ognuno è causa del proprio male come si dice però però che cosa succede se si legalizzasse la droga tu avresti delle persone che hanno una forza spesso sovrumana hanno un modo di pensare di vedere le cose in una maniera assurda potrebbero cadere addirittura in nelle visioni di tanti nemici e volerli appunto uccidere quindi per esempio ti vedono come un nemico e tendono a ucciderti quindi liberalizzare sicuramente tutte le droghe da una parte aiuterebbe sicuramente lo Stato a combattere tutti quei fenomeni tutti quei fenomeni di come si dice di spaccio e ovviamente di contrabbando di droga ma perché ovviamente sarebbe legalizzata ma allo stesso tempo potremmo avere maggiori drogati in realtà secondo alcune statistiche questa cosa non è vera nel senso che nel senso che nel senso che diciamo che si è provato si è provato che non è non è non è così non è così nel senso che nel senso che in genere legalizzando qualcosa legalizzando qualcosa queste cose praticamente queste cose vengono meno consumate pensate un pochettino assurdo davvero Luca non ti piacciono i giochi difficili ma non è questo un gioco difficile più e non farti ingannare dalla complessità del gioco Luca cosa vuoi fare? vuoi cambiare per Fall Guys? poi dopo giocheremo anche a Fall Guys giocheremo a Brawl Stars questo gioco non è malvagio ti ripeto non è malvagio però anzi anche dal punto di vista grafico abbastanza leggero ben ottimizzato ben ottimizzato però la problematica ovviamente la problematica che ti deve piacere sicuramente è un gioco che è da giocare sicuramente nei tempi moderni più che altro con gli amici praticamente vedete un pochettino qui sopra possiamo fare anche i tanti i tanti colpi ovviamente addirittura speciali di sorgendo questi incredibili i vostri cattoloni e non è malvagio non è malvagio ti ripeto andiamo a cercare di saltare praticamente da questa parte qua e addirittura di trasformarci di trasformarci vediamo un pochettino se possiamo andare a che cosa sta succedendo su questo canale ecco qua il grande il grande il grande maiale vedete ragazzi il grande orco il verdognolo quindi giochi difficili mi piacciono in realtà non è questo un gioco tanto difficile però arrivano le palle delle palle addirittura di fuoco dappertutto e questo è il nostro scudo antipalle antibombe molto molto ben fatto dobbiamo dire la verità vediamo un pochettino dove possiamo andare che sta succedendo è risorto vedi è fatto bene è fatto bene è un gioco fatto molto molto bene dobbiamo dire Luca su bluestar dicono troppe parole cosa facciamo aiutaci Luca devi segnalare segnala il giocatore segnala il giocatore e vedrai che imparerà a essere più educato imparerà a essere più educato questo giocatore perché eviterà sicuramente eviterà sicuramente di andare praticamente a dire le parolacce quindi mi raccomando carissimo Moe segnala sempre i giocatori quelli là cattivi quelli che dicono male parola tutta forza male parole di mamma vedete addirittura qui sopra possiamo fare ragazzi guardate degli altri attacchi vedete un pochettino e vale ad attaccare mamma mia mamma mia non attacchi mai e l'abbiamo distrutto anche a questo quindi abbiamo degli attacchi particolari se qualcuno dice le parolacce ovviamente segnalalo così verrà bloccato ed eviterà sicuramente di dire le parolacce sono persone scostumate purtroppo questo tipo di educazione deriva quasi sempre dalla famiglia nemmeno dalla scuola perché la scuola ti deve istruire ma la famiglia ti deve educare quindi quando quando la famiglia la famiglia ti tende praticamente ti tende a a non dire praticamente quali sono i modi di comportarsi e quali sono le parole addirittura da non usare questo ti deve far capire determinate cose questa famiglia è molto particolare una famiglia ovviamente di scostumati perché è una famiglia di scostumati vedete ragazzi qui dobbiamo forse cambiare cambiare e mettere praticamente un nuovo ecco qua vedete un pochettino dobbiamo mettere l'arco l'arco con la freccia vedete addirittura mi sta mi sta veramente mi sta veramente facendo male questo è dark giant orc praticamente già da usurroll usurroll vedete un pochettino l più lb praticamente per rollare light left button ma già lo premo lb praticamente vabbè questo sta rollando vedete un pochettino sta andando praticamente da queste parti qua a fare di tutto e di più piano piano lo stiamo uccidendo e togli togli sto coso sto cosariello vado praticamente qui sopra a rollare Luca perché bluestar cinese segni di zodiacale perché ce l'ha perché in Italia non esistono queste cose segni di zodiacale sono una skinny per bluestar cinese e perché in realtà l'oroscopo cinese da noi non viene usato viene usato appunto in Cina da noi viene usato lo zodiaco occidentale quindi con i dodici segni dello zodiaco che non sono quelli cinesi e ovviamente non si associano al calendario cinese perché il calendario cinese è diverso dal calendario gregoriano noi oggi utilizziamo il calendario gregoriano penso un pochettino e quindi i nostri segni zodiacali secondo l'astrologia che è una pseudoscienza e non una scienza si associano i nostri segni zodiacali si associano praticamente al calendario gregoriano quindi con l'anno bisestile dove c'è l'anno un anno bisestile penso un pochettino perché cosa? perché gli antichi egizi pensavano che tutti tutti gli anni fossero i 365 giorni invece poi dopo si è scoperto che in realtà c'è un bisogna aggiungere un giorno ogni un giorno ogni quattro anni mi ricordo di preciso per dire la verità e appunto questo si è arrivato a farlo questo calcolo con l'anno bisestile inserito nel calendario gregoriano penso un pochettino veramente qualcosa di incredibile e tendenzialmente di assurdo quindi come puoi capire i cinesi adottano invece un altro calendario un altro calendario quindi il mio parere personale sicuramente è che non sono stati inseriti segni zodiacali cinese in brolstar cinese perché per quale motivo perché in Italia in occidente si utilizzano non si utilizzano tanto ovviamente queste tipologie di segni e quindi questa è la cosa guarda che i mostri i mostri veramente assuri guarda questo orco gigante ti dà una mamma guarda l'occhio lello ma guarda chi arriva arriva lei praticamente che siamo noi andiamo ad infondere praticamente nella nostra accetta praticamente guarda qua è impazzita è impazzita la ragazza andiamo infondere nella nostra accetta addirittura un grande potere un grande potere di butto praticamente un'ascia qui guarda un pochettino che scena guarda dentro l'occhio l'unico occhio sano che teneva e lo facciamo esplodere colpendolo solo nell'occhio cosa un po' assurda dobbiamo dire la verità ma ovviamente è un fantasy e dobbiamo anche noi sognare col polpettone qui sopra il grande mago polpetta Luca sto controllando Brawl Star lei stai giocando a Brawl Star mentre guardi questa incredibile live con Tron and Liberty il trono e la libertà per arrivare al potere e per avere la libertà comunque è fatto molto bene questo gioco vedete un pochettino con questi pupazzetti con questi mostri si ha un insieme praticamente di tutti questi giochi e lei sta ricordando il papà il nonno praticamente il nonno il papà che purtroppo si è trovato anche in brutta e bruttissima è stato polverizzato addirittura un pochettino un pochettino guarda un pochettino i bambini scappate scappate siamo arrivati praticamente vieni vieni con me praticamente venite scappate praticamente di qua questa ti butta i fulmini di filosofia addosso fanno saltare i bambini e noi li prendiamo in braccio e li portiamo guarda che velocità chi è? Harry Potter in formato ciccioloso ciccioloso erriciccio erriciccio andiamo a vedere che cosa sta succedendo ragazzi in questa incredibile live in questo incredibile gioco per chi voleva il gioco la mitica ragazza con il neo sul naso la nasella e guarda che è arrivato il baffettino il baffettino che non ha mai faticato in tutta la sua vita il filosofo il filosofo del gioco il filosofo della vita e poi c'è a bambole e le pezze a bambole e le pezze che ovviamente è uno spiritello incarnato nella piccola bambolella di pezza assurdo ragazzi che ci dice di andare da questa parte qua che dirvi quindi ragazzi in conclusione di Tron & Liberty sicuramente un ottimo gioco che non mancherò appunto di giocare che fa gli fa male la mano che è successo che fa che è successo che gli è venuta una cosa andiamo a vedere ragazzi quindi fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta ovviamente la live Tron & Liberty sicuramente un gioco un gioco di ruolo l'unica pecca è che per noi italiani è tutto quanto in inglese io ragazzi vi ringrazio per l'attenzione se vi è piaciuta la live mettete mi piace lasciatemi un commento per dirmi se anche voi avete installato Tron & Liberty che è un free to play almeno per il momento poi ci sono tante aggiunte che ovviamente dovete pagare come tutti i giochi altrimenti non è che vi lo facevo perché gli stavate simpatico è un gioco che mi è piaciuto mi diamo un bel lotto poi approfondire e anche graficamente me lo aspettavo peggio Luca ti voglio dire un'ultima cosa dimmi l'ultima cosa carissimo Moe non ti preoccupare mi puoi dire tutte le cose che vuoi perché il tuo amico il giocherellone ovviamente ti sta sempre ad ascoltare e detto questo mi trasforma addirittura il lupo guardate che belle queste ambientazioni veramente fatte bene andiamo a vedere un pochettino che cosa possiamo fare il grande nano vedi un pochettino il grande nano ce la metico tutti in campo con Lotti che era anche un cartone animato italiano dopo farai Brawl Stars una live certo farò Brawl Stars e se ci sarai giocheremo insieme se non ci sarai giocheremo insieme un'altra volta di certo prima o poi giocheremo insieme hai capito caro piccolo Lotti caro piccolo Lotti Lotti vedi un pochettino ce la andiamo praticamente qui dentro nel mondo in questa chiesa ormai è caduta a pezzi metterti qua sopra non è tanto saggio però eh te lo dico subito praticamente non metterti praticamente qui sopra il grande Clay praticamente che è diventato un biondino è ancora un po' più cicciotto come potete vedere ecco qua guardate un pochettino i mostri pupazzi i mostri pupazzi un po' copiati da Berks un po' copiati da Mogl di Final Fantasy quindi c'è un copia copiarella ovviamente rimpostato rivisto praticamente ecco qua guardate un pochettino Lunaro Lunaro vedete un pochettino Lunaro il mostro lunare praticamente quindi che ha fatto mi ha fatto salvare praticamente la pietra della luna che bello il lupo ciao ciao Luca sì ciao buona giornata a te ci vediamo dopo vedi un pochettino guarda guarda cosa sta succedendo mamma mia è veramente fantastico tutto questo fatto bene fatto bene ripeto è un mondo sicuramente da esplorare con i grandi amici il baffettino che praticamente non ha mai lavorato a casa sua Lotti che giocava sempre praticamente a golf e noi che ci salutano diciamo vattene via e non farti mai più rivedere vedete si trasforma vedi un pochettino salta e si trasforma si trasforma in qualcosa spero perché altrimenti si schianta in terra si butta così ed ecco qua la grande trasformazione in falco figuratevi se non si trasformava morivamo ed era il gioco era già finito e guarda qui sotto chi c'è chi c'è il balenottero il balenottero lune guarda un pochettino stiamo arrivando vieni con me praticamente ci hanno dato pure il pupazzetto praticamente di mamma quindi una storia che continua ma quando giocheremo in multiplayer non lo so la balena di pietra ragazzi il balenone di pietra praticamente è dietro di noi la nostra mitica amichetta praticamente ci sta raccontando di tutto e di più vedete incredibili ovviamente animazioni che ci fanno sempre ridere scherzare ci portano sempre lieti momenti vedete il balenone il balenone di pietra che combatte quindi forse ecco qua quindi adesso finalmente inizierà il gioco dopo questo lungo tutorial questo è tutto il mondo che praticamente almeno per il momento possiamo esplorare poi sicuramente verranno aggiunte altre cose un gioco molto massiccio secondo me graficamente ma ben ottimizzato sicuramente così si fanno i giochi così si fanno i giochi utilizza sia la tecnologia di Nvidia per ovviamente l'upscaling della risoluzione che ovviamente quella là di AMD e su questo su questo sicuramente sicuramente è apprezzabile tutto questo unione di filmati unione ovviamente di immagini in game caricamenti molto veloci bello bello mi sta piacendo anche una definizione dei mostri come potete vedere tutti questi sono i nostri eroi ovviamente vedete c'è anche un riferimento tantissimo riferimento ovviamente al The Ring con questi mostri di pietra questi elementi ovviamente che si rifanno anche al Signore degli Anelli una cultura fantasy addirittura primordiale rispetto al Signore degli Anelli molto molto ben fatto devo dire la verità affascinante affascinante sicuramente bella anche questa introduzione ti invoglia proprio a giocare vedete il castello forse degli Elfi ripreso proprio dal Signore degli Anelli ma in realtà le torri si sono sempre costruite nel Medioevo per dirvi quindi il Signore degli Anelli in realtà di Tolkien non è che inventa qualcosa l'invenzione più grande è stata fatta dagli esseri umani nel tempo nel tempo attraverso anche i vari culti che si sono succeduti quindi sicuramente sicuramente il fantasy sì ma il fantasy affonda le sue radici affonda le sue radici all'interno all'interno del del concetto sicuramente di Medioevo Medioevo e poi dopo sicuramente Rinascimento ma soprattutto di Medioevo dove a volte tra Medioevo e Rinascimento addirittura vengo chiccato dall'anticit ma perché cosa non ho fatto niente stavo vedendo l'introduzione va bene signori che dirvi trono è liberti chiudiamoci questa live se vi è piaciuto il video mettete mi piace condivido il video e commentate fatemi sapere se anche voi ci giocate così ci giocheriamo insieme sempre che ovviamente troviamo un server che non ci cacci anche se non utilizziamo nessun cheat non stavo utilizzando nessun cheat ci mancherebbe anzi ho fatto solamente la parte iniziale del gioco detto questo abbonatevi e donate se volete supportare il canale avere tantissime migliorie e in più ragazzi vi ricordo sempre che il gioco del lune vi aspetta su tutti i suoi social network trovate la box informazioni se volete comprare il mio gadget cliccate sul negozio avete magliettini cappellini felpine pantaloncini di tutto e di più con la scritta del giocarellone le sue mitiche frasi e se volete ovviamente ragazzi pensate un pochettino addirittura addirittura comprare i miei libri cliccate nel box informazioni troverete tutti i libri pubblicati dal giocarellone che potete addirittura leggere gratuitamente se vediamo giocando la limite ringrazio tutti ringrazio Moe soprattutto che mi ha fatto tantissima compagnia a cui gli dedicheremo anche tanti short il giocarellone vi aspetta tra 5 minuti con un altro incredibile videogioco ciao a tutti e buona giornata dal giocarellone ciao